Storia importante, voluta, fatta bene dai ragazzi che ci hanno messo anima, cuore e tutto quello che serve in questo finale di campionato, quindi è andata bene sotto tutti i punti di vista, è risultato la prestazione e l'importante è che comunque abbiamo raggiunto la Paganese, anche se in questo momento siamo sotto per via dello scontro diretto, però diciamo è una partenza buona, abbiamo ancora tre partite a disputare questo finale di campionato e dobbiamo fare il meglio possibile. È stata una settimana tranquilla, abbiamo cercato di compattarci, di capire cosa dobbiamo fare di qua alla fine e oggi penso che la squadra l'abbia dimostrato, certo è dura, è ardua, sarà difficile, ci sarà da soffrire, però penso che questa squadra abbia tutte le qualità per poter raggiungere l'obiettivo. La gara, come ho detto prima, penso che la squadra abbia avuto l'atteggiamento giusto, lo spirito giusto, ha fatto anche delle buone giocate, la potevamo anche chiudere, abbiamo preso un palo, abbiamo avuto un'altra occasione con una gran parata di piede del portiere del Francavilla, quindi la gara è andata bene. Come ho detto prima, purtroppo non possiamo esultare più di tanto perché il campionato per noi è in salita e dobbiamo fare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Ma io la voglio dedicare a tutto il pubblico di Biceglie perché comunque capisco che sta soffrendo, in passato qualche dichiarazione mia ha creato qualche, secondo me, malinteso, come quando dissi che qualche giocatore non voleva venire a Biceglie, parlavamo di giocatori importanti che hanno preferito andare in altre squadre, era solo quello. Per me Biceglie e Real Madrid è la squadra più forte che c'è in questo momento, la più importante e sono contento di essere tornato. Il nostro obiettivo è quello di ottenere il massimo in queste tre partite che ci rimangono e poi tirare le somme e vedere cosa fare. Al di là del centrocampo che sicuramente Romizia e Maimona hanno fatto bene, ma oggi hanno fatto bene tutti, la squadra ha giocato da squadra, ha giocato con spirito, ha giocato con voglia, determinazione, ha voluto la vittoria e l'ha ottenuta. Se non abbiamo questo atteggiamento in tutte le partite che rimangono di qui alla fine, vengono fuori i nostri limiti e non riusciamo a raggiungere l'obiettivo. Con questa attenzione, con questa voglia e con questo sacrificio da parte di tutti possiamo arrivare al nostro obiettivo. Grazie a tutti.